Ma qui quante sono le case? Perchè qui sopra è arrivata a casa. Stanno lanciando la casa. Mi ha creato dei luoghi. Io se non ci danno una mano, non c'è altro. E' arrivato verso le sei, le cinque e mezza così, ma nessuno pensava che io non posso sì. Ma è che se è intasato un altro con i tronchi, un altro forza di sopra e addirottato, vada giù dalla strada. Io avevo una macchina più costata. Grazie. 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 Grazie.